Oggi la Salernitana ha concluso gli allenamenti per il mese di novembre, per poi riprendere a dicembre quando saranno anche disputate diverse amichevoli. Già il bisogno inizia, ma anche Turris e Palmese dovrebbero essere queste le avversarie dei Granata che saranno ancora allenati da Davide Nicola. Tecnico e direttore sportivo si sono parlati ieri di personal merrosi e probabilmente si vedranno anche col presidente Danilo Iervolino nelle prossime ore. Serve fare chiarezza su obiettivi e strategie perché la classifica premia la Salernitana nell'ottica di una salvezza senza affanni, ma punti ottenuti da alcune prestazioni potrebbero non essere del tutto all'altezza delle aspettative del club se parametrati agli investimenti sostenuti ed in quest'ottica va comunque fatta un'analisi di tutti gli acquisti estivi e del loro rendimento. Insomma, non tutto ciò che è arrivato dal mercato può aver convinto, così come è possibile che non tutte le scelte del tecnico abbiano soddisfatto. Fa parte del gioco e di un percorso di crescita di una società alla sua prima vera stagione normale in massima serie che forse ha alzato troppo l'asticella, cosa che non può certo dispiacere la piazza, perché se il presidente ha ambizioni e vuole vincere ciò vuol dire che ci sono programmi di un certo tipo sullo sfondo. Insomma, Danilo Iervolino guarda molto avanti, mentre forse Davide Nicola preferisce guardarsi prima di tutto alle spalle. Aver messo tra sé e la zona retrocessione 10 punti è un merito del tecnico e della squadra che però non hanno dato un seguito adeguato alla vittoria sulla Lazio in cui avevano dimostrato grande coesione, grande spirito di sacrificio ed una motivazione fortissima. Trovare il giusto equilibrio fuori e dentro il campo, tatticamente e mentalmente, e magari anche tra ciò che la direzione sportiva fa sul mercato e quello che l'allenatore chiede e vede sul campo, sarà un passaggio chiave per arrivare più uniti e più forti a gennaio. E il mercato sarà un'importante cartina di tornasole ed anche una preziosa opportunità. In entrate è palese che occorrano ancora rinforzi di spessore in difesa, dove le assenze di Ghiomber e Fazio non sono state assorbite dai nuovi con la giusta attenzione ed in mediana, dove si attende il miglior boine e manca un altro elemento di forza e propulsione. Capezzi e Castanus potrebbero salutare sugli esterni, vista la bocciatura di Sambia, bisogna intervenire almeno su una corsia. In attacco di Appiontech sono le certezze, poi tutti sono in discussione. Manca un elemento in grado di agire tra le linee, ruolo e posizioni in cui ha provato a calarsi, ma senza grande entusiasmo Bonazzoli. Valencia e Butaim sono ancora cerbi ed hanno bisogno di giocare con continuità. Sia Christoffersen ma anche Mikai potrebbero salutare. Gendani insomma sarà un mese intenso e pieno di novità in entrata, e dal centrocampista Belgaraschini è molto vicino ed in uscita. E le partite con Milan, Toro, Atalanta e Napoli saranno prove importanti, a cui la sanità non dovrà arrivare carica e pronta, come ha già dimostrato, di poter fare. Cali di tensione e sbalzi di umore a tutti i livelli però dovranno essere evitati. Con 23 partite da giocare tutto è ancora possibile, bisognerà puntare sempre al massimo per rendere orgogliosi proprietà e tifosi. Non si deve sempre per forza vincere, ma è necessario avere sempre un atteggiamento che vada in una direzione di crescita e miglioramento costanti. Gare come quella di Monza non sono in linea del resto con il motto sociale del club.